Non vedo mio padre da quando avevo 13 anni. Non mi vuole vedere e non mi vuole parlare, ha chiesto ai suoi avvocati di parlare solo tramite di loro. Vorrei sapere cosa ti ho fatto. Avevo solo 13 anni quando mi hai lasciata sotto al portone. Questo l'appello che Veronica Sappi, figlia di Bobby Solo, lancia al padre dal salotto di Domenica Live. Ci sono genitori che cercano i figli e figli che cercano i genitori, dice la ragazza che vorrebbe anche presentare la sua fidanzata al padre, ma non avendo nessun contatto, sente che questa è un'altra cosa, che le viene negata. Se vuoi vedere il video originale, clicca sul link in descrizione, e buona visione. Grazie a tutti.